Gianluca, Luciano ed Emilio, stanchi dopo l'allenamento? Ecco il professor Davide, fresco dopo l'allenamento. Emilio, che copia Gianluca, perfetto. Vai, vai, giù di ginocchia eh, vai giù, giù col petto di gas di frizione sei dall'altra parte, automatico, vai, non andare più avanti da lì eh. Ti sto tenendo io eh, vai, cavoli guarda avanti qua, l'avevi la mia mano, avanti, là devi arrivare, stai lì sto col petto. Guarda che la coppa ti ferma, non ti preoccupare. Oh là, adesso ti mollo. Dai, non facciamo stare a non preoccupare, eh, facciamo tutto il movimento. Si ferma lì la moto con la coppa, vai. Facciamo tutto il movimento, devi avere la coraggio, giù di gambe, giù col sei ginocchia. Vai, vai. Si, va bene. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Allora c'è qualcosa per me su qua. Sì là però eh, dagli il colpo per andare là, ok Emilio? Ti tengo io, non dico. Ciao, ciao. Ok, là. Bravo, così impariamo da solito. Bravo Emilio, così. Lo sguardo, su lo sguardo. Carica sto mono. Tranquillo, vai là. Pensa ad andare là, Emilio. Poi ti tiro io quello che non arriva. Tanto non arriverai, tu già. Vediamoli il tuo colpetto, dai. Vediamoli il tuo colpetto, pensiamoli arrivare. Però il tuo sguardo lo voglio lì, eh. Se non guardi ti manco. Bravo, così. Dai, dai, sei stancato da dieci volte meno. Oh, vai. Ah, 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 tranquillo. Dai, Miglietto, dai, dai. Tieni l'uco, guarda avanti. Vai, ginocchia, vai. Che t'acchiappa, si preoccupare. Dai, colpetto, dai. Un po' troppo molle. Su. Ok, vieni dretto. Ok, hai detto? Ok, hai detto? Gianluca e i suoi allievi, Emilio e Luciano. Ok, hai detto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.